Lo sforzato al Bareda di Mamete Prevostini 2007 si attesta quest'anno alle quattro rose camune, un nebbiolo che vede un appassimento sui gratici che permetterà una concentrazione di colore, infatti è un colore rosso granato ma comunque carico, una bella consistenza muovendolo nel bicchiere. Al naso d'impatto il fruttato di questo vino, un fruttato spostato su una confettura, una mora di rovo, dei mirtilli in macerazione, una bella sensazione anche speziata di spezie dolci come caffè e tabacco. In bocca è sicuramente d'impatto la sua struttura e il suo tenore alcolico, davvero importante, siamo intorno ai 15 gradi. Un vino che ha dei buoni presupposti per il futuro avendo un tannino ancora in via di integrazione con la massa e sicuramente un bel tono fresco che darà vita al prodotto. Lo servirei in calici ben ampi per apprezzare al meglio la complessità di questo vino che darà il meglio di sé nei prossimi anni. Un vino che servirei alla temperatura di 18-20 gradi in accostamento a un carré di cinghiale con una salsa ai mirtilli.